World Radio Day Il 13 di febbraio abbiamo deciso quest'anno di fare le cose ancora più in grande per entrare nel vivo proprio delle realtà radiofoniche e musicali quindi abbiamo deciso anche di attuare quelli che sono gli workshop che si protrarranno poi nel corso della giornata. Il nostro ultimo workshop della mattinata riguarda appunto la schedulazione musicale e chiedo di salire sul palco a Roberto Zecchara e Gino Nuzzo di Bivomedia. Buongiorno, grazie, buongiorno, buongiorno. Grazie mille innanzitutto a entrambi di essere qui, avremo un workshop un pochettino più lungo per quanto riguarda invece gli altri, sono durati 30 minuti, questo durerà ben 45 quindi avrete un sacco di cose da imparare. Voi le sapete già queste cose, no non è vero è tutto molto interessante soprattutto perché c'è tanta gente appassionata tecnicamente quindi secondo me sarà molto interessante e poi comunque conoscere cose nuove. Io vi cedo il palco e vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie, di là c'è Albertino comunque se volete. Sì è vero ma... Si avviene la concorrenza, no però. Noi non ci siamo preparati niente nel senso che per me è un po' come dire anche diminutivo il fatto di farvi vedere comunque un software, non credo che voi siate qua per vedere un software di programmazione musicale. Dall'altra parte a me piacerebbe innanzitutto partire da voi, cioè qual è la vostra curiosità o qual è la vostra aspettativa nei confronti della programmazione musicale. Cioè siete sicuri o avete dei suggerimenti che fate magari a voi stessi quando vedete le vostre radio nel caso in cui ne aveste una? Cercare di capire esattamente qual è il format, qual è anche l'aspettativa della gente che vi ascolta per poter capire se quel brano è esattamente quello che la gente si aspetta o che è perfettamente integrato all'interno del vostro sistema radio, della vostra programmazione. E soprattutto qual è il vostro ambito di curiosità per capire esattamente come schedulare la canzone giusta nel momento giusto. A di là del fatto che molto probabilmente è un concetto un po' astratto, nel senso che poi avete una varietà di ascoltatori che molto probabilmente non vogliono o non sospettano minimamente il fatto che voi mettete Stevie Wonder rispetto a, che ne so, a Banalisa. Però questo deve avere comunque una sorta di sua coerenza e in questo effettivamente ci sono molti software tra cui uno di questi è Music Master che vi permette effettivamente di poter dare una coerenza a seconda di quello che sono non soltanto dei termini tecnici veri e propri ma anche artistici che è la parte che molto probabilmente poi è quella più interessante. Cosa fa Music Master o cosa fanno gli schedulatori mediamente? Sono dei software che vi permettono di poter, sono dei gestionali poi se dovessimo metterli in termini tra virgolette più pratici, sono dei gestionali che vi permettono di poter organizzare i vostri cataloghi. primo, voi sapete di quanti brani consta il vostro catalogo, secondo, nel caso in cui voi aveste dei cataloghi da 4.000 canzoni, voi vi ricordate esattamente ogni singolo titolo, ogni singola proprietà relativa a quel brano? questi schedulatori vi servono proprio per questo, per poter pensare di individuare all'interno del vostro database le corde più consone a quello che voi state mettendo in onda o che vorreste mettere in onda. Ovviamente questo software ha delle particolarità, diciamo che il menu si dipanna su queste prime 5 icone, una è l'organizzazione del catalogo, la seconda icona è la formazione dei cloche, quindi del vostro palinsesto, la terza è le regole per le quali il vostro palinsesto gira secondo i dati che avete messo all'interno delle canzoni, e poi ci sono le altre due che sono molto importanti perché vi permettono di poter capire esattamente quali sono le rotazioni e soprattutto l'esposizione del vostro catalogo. Che dire? Ovviamente adesso siamo sotto Sanremo, quindi questo Sanremo in un certo qual modo è ormai sovraesposto, tutti metteranno le canzoni di Sanremo più di una volta, tutti avranno l'esigenza di mettere per forza quelli che sono i vincitori, perché sono quelli che hanno avuto più voti, eccetera, eccetera, ma dall'altra parte, e quindi potrebbero considerare quello che potrebbe essere, tra virgolette, una situazione di patologica, non c'è solo Sanremo o non c'è soltanto un radio, tra virgolette, quindi lo studio di un format, in un certo qual modo che io sto proponendo ai miei scontatori, va anche in questa direzione, cioè il fatto di poter capire esattamente che cosa voglio mettere, e che cosa potrebbe essere di più gradimento in base a quello che sono le mie caratteristiche di rotazione. Gino è il mio braccio destro, o meglio, è lui poi il vero e proprio specialista di Music Master. Non so cosa stia facendo. Nel frattempo intrattengo. Vi faccio una domanda, tipo tu, terza fila, esatto. Cosa ti aspetti da una programmazione musicale? Che la faccia tu o che la faccia qualcun altro? Cosa significa coerenza con la radio che stai ascoltando? Cioè, innanzitutto, tu ascolti immediatamente una radio che ha una personality radio o una radio di flusso? Di flusso. Quindi tu sei più un ascoltatore di Spotify? Sì. Ok. E cosa ti aspetti da Spotify? Dalla scelta di Spotify? Cioè, io non scelgo e aspetto che Spotify scelga per me? Chiedo, cioè, la tua abitudine ad ascolto di Spotify è, ho delle mie playlist, giusto? E a questo punto le mie playlist ricalcano in certo qual modo i miei gusti musicali, ma poi Spotify finita con la playlist mi riproporrà qualcos'altro. Sì. È sempre nelle tue corde quello che ti propone Spotify? Non sempre, non sempre, perché a volte va in genere che interessano, quindi cambio io e poi sei giusto a lui. Quindi significa che tu manualmente devi andare a richiamare, ehi, intelligenza artificiale, guarda che non sei tanto intelligenza, ti riprendo in mano le briglie e ti riporto a casa mia. Quindi vuol dire che Spotify non ha una serie, cioè non fa una serie di ragionamenti relativi a delle, come dire, delle caratteristiche di gusto, ma semplicemente perché c'è dietro un tag che dice se tu hai ascoltato Bruce Springsteen, molto probabilmente ti piace il rock e ti piace anche gli anni 80. Sbam! Playlist degli anni 80 tutti rock. E tu dici, ma io ho messo Bruce Springsteen, volevo ascoltare quel brano, chi se ne frega. Con questa cosa, ovviamente, che Spotify non ha, e parliamo ovviamente di radio, c'è la possibilità effettivamente di poter dire guarda che io aggiungo un tag, ma devi saperlo gestire in maniera diversa da Spotify. Ed è questa, come dire, la magia della radio rispetto a quello che potrebbe essere un ascolto passivo. Cioè, qual è la differenza? La differenza sostanzialmente è che se io mi faccio guidare da un marchingenio, cioè da un computer, un inizializzato ufficiale, eccetera, eccetera, non sarà mai esattamente, perfettamente affine a quello che sono i miei gusti, ma semplicemente perché lui non li sa. Io gli sto dando delle indicazioni semplicemente su una parte di catalogo che mediamente potrebbe essere utilizzata da uno, nessuno, centomila. Ed è per quello che nascono le playlist di Spotify, di Apple Music, eccetera, eccetera. Perché potenzialmente io qualcosa a livello di gradimento pesco, ma non è tutto. La differenza della radio è che c'è invece dietro qualcuno che pensa al gusto del proprio ascoltatore. Perché? Perché noi sappiamo che hanno degli ascoltatori veri e propri al quale interessa questo tipo di flusso. Che non è casuale, ma è generato da questa cosa qua. Quindi quando io andrò a compilare il mio palinsesto che è fatto da clock, che è fatto da griglie, che è fatto ovviamente da selezioni musicali, la prima cosa che faccio è dire guardo e faccio il mio catalogo in base a quello che sono ovviamente i miei gusti, ma anche quello che potenzialmente potrebbe essere il forma della radio che io voglio proporre ai miei ascoltatori. Di conseguenza creo delle categorie. Cosa mi serve a me creare delle categorie? Serve creare delle categorie semplicemente per dire, guarda che queste sicuramente voglio che vadano in onda più di queste. E magari queste identificano, che ne so, un genere, non tanto un genere musicale, ma un periodo musicale diverso rispetto a queste. Quindi cosa voglio farvi cercare di capire? Che quando io vado a fare la costruzione di un clock, o vado a fare una selezione musicale che possa essere fruita da un pubblico, innanzitutto devo capire il pubblico. E proprio sulla base di questo vado a costruirmi un format. Il format lo gestisco in base a quello che sono delle caratteristiche relative a ogni singolo brano. Che possa essere vecchio, nuovo, con delle caratteristiche ovviamente di tempo, ovviamente artista, titolo, separazioni, eccetera, eccetera. Voi non potreste mai ricordarvi, con 4.000 titoli, se fate una programmazione, tra virgolette, similmanuale, quanto tempo fa è andato in onda quel singolo artista, o quanto tempo fa è andato in onda quel singolo brano. Perché? Perché su 4.000 brani non avrete mai il controllo. O avete una memoria di ferro, allora chapeau, oppure dovete farlo fare effettivamente a un software del genere. Torniamo al software vero e proprio. Il software vi permette di poter gestire ovviamente tutta quanto una serie che sono dati tecnici, e sono dati anche artistici, che significa capire esattamente che ruolo ha, quindi significa se è cantato da donna, uomo, gruppi musicali, eccetera, eccetera. Come è la tessitura del tempo, per cui come inizia e come finisce. Il mood fondamentale per chi fa radio, per cui cercare di costruire queste onde che non siano sempre definite continuamente sullo stesso BPM, ad esempio, ma il fatto di poter dare l'onda, che è quella, come dire, magia, che ci permette di poter vivere diversi momenti della radio e non avere una radio tutta dritta come se fosse mixata. E poi tanti altri, per cui dati tecnici o dati artistici, che possono essere anche, che ne so, il codice sonoro, che significa una canzone pop, una canzone rock, una canzone dance, una canzone rap, eccetera, eccetera. Questo per andare a definire essenzialmente tutti quanti i parametri per i quali costruite il vostro palinsesto, la vostra essenza musicale. Da qua si parte ovviamente a costruire, dopo aver fatto tutta quanta, come dire, la parte di filtraggio di categorie e tutta quanta la parte di, come dire, proprietà di ogni singolo brano, vado sulla parte dei clock. I clock cosa mi definiscono? Esattamente con che tipo di rotazione e le posizioni per ogni singolo brano, attenzione, per ogni singola categoria, che mi permette di poter dire, ok, siamo fuori risoluzione però. Ok, questo è il mio clock. Cioè, io so che... Fermatutto. Che cosa hai preso? Non lo vedo là sotto, però. Io so che in quest'ora la mia sequenza da rispettare è esattamente questa, che compone i miei 60 minuti. Significa che posso mettere degli elementi forzati, che possono essere il segnalo orario, non lo faccio decidere da un sistema di automazione, il segnalo orario è il segnalo orario. Quindi ci sarà un file o un evento, o un evento che mi identifica, guarda che sono le ore, dieci e un minuto. Ci sarà molto talmente una base delle news o un file che mi arriva dalle agenzie, che non schedulerò in termini artistici, ma lo schedulerò semplicemente perché mi arriva un file vero e proprio e questo file avrà un suo ID che va sempre posizionato in questa posizione del clock. avrò dei jingle, avrò le categorie che sono relative alla musica e vado avanti esattamente cercando non soltanto di capire qual è la sequenza per la quale io sto mettendo dentro degli elementi, ma anche qual è la composizione in termini orario. Cioè io dal momento in cui ho dei dati nei quali posso agire effettivamente, qua ad esempio semplicemente in termini di durata, però io so quanto dura, per cui dico guarda che mediamente un mio brano contenuto nella categoria S1 dura dura 2 minuti e 55. Quindi io so esattamente che per chiudere la mia ora, dal momento in cui so esattamente tutte le durate, mediamente riesco a starci dentro nei 60 minuti. Cioè ho la possibilità effettivamente di poter andare a verificare che ogni singolo clock di durata un'ora posizionato all'interno della mia griglia rispetta esattamente i parametri non soltanto di rotazione, ma anche i parametri di durata. Se lo fate fare da un programma che lo fa dinamicamente, voi non saprete mai A, cosa state mettendo in onda, B, non saprete mai quanto dura la vostra ora. Perché? Perché rispetto a quello che potrebbe essere prefissato da questo tipo di regola, i programmi che vi generano delle playlist in maniera automatica, se voi volete che questa posizione qua sia sempre rispettata, se non sapete quanto dura il resto, questo potrebbe non essere 54, ma qua. E quindi questo salterebbe. Ma a voi non fa piacere, perché magari è un cluster pubblicitario. Magari è una cosa che volete per forza mettere in onda, perché è una particolare rubrica che voi inserite all'interno. Se lo fate in maniera dinamica, correte il rischio di uno skip. E quindi non potrete mai avere la certezza che questa cosa vada in onda. Un'altra caratteristica, e se passiamo dall'altra parte, su quello che sono le regole con le quali io sviluppo questo clock, sono le regole che potete assegnare per ogni singola categoria, che non sono semplicemente delle regole relative a voglio, che ne so, una distanza tra lo stesso titolo e lo stesso artista. Ma sono anche regole relative sempre a quello che sono i dati che noi abbiamo messo all'interno del nostro database, del tipo. Io dentro la categoria power, e all'interno della mia ora, non voglio che vadano più di due brani rock. E tu dici, vabbè, semplice. Non è proprio poi così scontato. Nel senso che, se da un momento in cui io decido di non essere una radio rock, e mi trovo quattro brani della categoria S1 power, all'interno della stessa ora, lì ho fatto una roba diversa da quello che mi aspetto. E quindi l'idea non soltanto di poter andare per limitazioni, ma anche per singole richieste. Che è? Cosa significa? Io posso decidere semplicemente di o avere dei part per le quali quei brani non vanno in onda, o fare delle specifiche richieste all'interno del clock, per cui dico, io voglio che in quella posizione il brano vada in onda, o meglio, vada in onda un brano che rispetti la categoria, ma che abbia determinate caratteristiche. Ad esempio, io so che dentro una specifica categoria che possa essere una di quelle, all'inizio dell'ora voglio sempre un brano degli anni 80 che sia pop, perché lo presento. Se io avessi un programma che non determina quello che potrebbe essere la scelta relativa a determinati parametri che possono essere ovviamente all'interno del database, ma gestiti dalle regole, io potrei avere un brano qualsiasi e non certamente quello che richiedo. L'importanza dell'avere come dire un'organizzazione di un catalogo musicale è fondamentale per chi fa radio, ma non semplicemente per quanto riguarda come dire la definizione di un format, ma è anche tutto quanto quello che è la sequenza relativa a quello che io voglio mettere in onda. Cioè, questa cosa vi permette di gestire ovviamente attraverso delle regole che cosa tutta una serie di richieste e di limitazioni relative al pescaggio, ma se io ho delle pubblicità, se io ho dei programmi che sono annegati all'interno della mia programmazione e voglio metterli dentro all'interno dello schedulatore, lo faccio semplicemente perché ho bisogno di sapere esattamente durate e cosa sto mettendo in onda in ogni singola ora all'interno del mio palinsesto. Questo tipo di controllo è quello che fa fondamentalmente il successo delle radio. Vi faccio un esempio della mia esperienza. Quando voi sapete che la musica ha dei flussi ciclici, cioè noi in questo momento stiamo ascoltando tante cose che ci riportano alle sonorità degli anni 80-90, se l'avessimo fatto dieci anni fa non ci ascoltava nessuno diceva che stai facendo. Ma specialmente nei sample vedete esattamente che nella musica i percorrono in un certo qual modo determinate caratteristiche legate agli strumenti ad esempio utilizzati. Questa cosa negli anni ha determinato delle curve che sono purtroppo non ho quale slide delle curve che sono sostanzialmente di gradimento. Ma la cosa fondamentale è che quando voi andate a misurare dei cataloghi che possono essere i vostri 4.000 dischi ci sono delle società che fanno degli interventi precisi su quello che sono gli ambiti di gradimento. Si chiamano auditorium. Le radio grosse lo fanno. Mediamente si mette a disposizione un catalogo che va dai 5-6.000 brani lo si fa ascoltare a più persone racchiusi in auditorium che sono dei gruppi d'ascolto omogenei ovviamente su quelle che sono le caratteristiche relative all'ascoltatore della radio medio e li si fa votare con 4 punteggi soltanto ascoltando il ritornello l'hook. Da questo hook in 5 secondi che cosa si fa? Si dice mi piace non mi piace lo conosco non lo conosco l'incrocio di questi 4 risultati determina la valenza di un catalogo vi faccio un esempio mi piace lo conosco it giusto? mi piace non lo conosco bellissimo potenziale altissimo perché se non lo conosci ma mi piace non lo conosco che mi posso sfruttare perché su quello è quello che faccio la differenza non mi piace e non lo conosco lo butto via se mi piace scusa se lo conosco e non mi piace è quello che ha rotto i coglioni su questa su su questi risultati si basano fondamentalmente tutti quanti le architetture dei cataloghi delle radio ma poi bisogna anche gestirli ed è qua che interveniamo cioè ovvero se io ho un che ne so ho ricavato mille brani un numero a caso di cui 600 hanno avuto un punteggio medio ma i 400 hanno avuto un punteggio altissimo o alto cosa devo fare io? devo cercare di poter avere un'esposizione di 400 ma non possono essere sempre 400 di conseguenza devo creare delle sequenze che possono essere un fuori e dentro da questo universo di come dire di punteggi per i quali cerco l'omogeneità tra quelle che sono meno conosciute ma con più potenziale e le super it riuscirete a farlo in maniera automatica o riuscite a farlo a mano? non credo per cui inserendo tutta la parte di punteggio all'interno di quello che sono i miei database e gestiti attraverso filtri numerici piuttosto che non filz adeguati eccetera eccetera create non delle regole che sono previste ma delle regole che possono essere vostre in base a quello che sono delle aspettative relative alle vostre rotazioni cosa dire d'altro una volta che ho fatto i miei clock che sono andato praticamente a delineare le mie caratteristiche quindi le mie regole che sono come dicevo delle limitazioni oppure delle specifiche richieste vado a vedere qual è l'analisi delle mie rotazioni di conseguenza con questo ho la possibilità di vedere esattamente cosa va in onda e in che modo va in onda con tutti quanti i termini relativi a non soltanto le appartenenze ma anche i turn over significa che quando io vedo che una mia categoria è a un'esposizione di un'ora e quattordici vuol dire che questa è una super hit che io sto mandando sempre comunque in maniera assidua poi dall'altra parte vedo anche le altre categorie di riempimento che non sono più i current ma sono magari i ricorrenti o sono gli oldies questi ovviamente avranno un turn over molto diverso perché come dico non metto Bruce Springsteen una volta al giorno molto probabilmente analisa sì ed è questo quello che fa la differenza tra le varie categorie ma non solo nella parte di esposizione io vedo esattamente anche dove sono stati posizionati quindi all'interno di un clock so esattamente ogni singolo brano con la sua cadenza dove è andato a finire quindi o nella prima parte nel primo quarto d'ora o nel secondo quarto d'ora eccetera 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 questo mi può permettere ovviamente di fare che cosa di mappare esattamente quello che sono le caratteristiche di rotazione sì ma anche un'analisi del palinsesto vero quanto sto esponendo le mie varie categorie i miei vari elementi all'interno del palinsesto con anche l'esposizione per cui io so che il 79% del mio clock è formato da quella categoria lì se io volessi anche pensare non a una categoria musicale ma a una categoria di promo ad esempio o di jingle o di pubbli redazionali io so esattamente qual è l'incidenza relativa a cosa sto esponendo sovraesponendo o sottoesponendo è soltanto da qua che io posso effettivamente vedere che cosa qual è la mia cioè che radio sto facendo e questo posso farlo ovviamente in ambito di analisi su tutti quanti i campi e le caratteristiche che sono contenute all'interno del mio database del tipo la mia è una radio più giovane o più vecchia la mia è una radio più femminile o più maschile la mia è una radio cantata più da gruppi oppure da vocali cioè da singer vocali questo è diciamo la parte come dire analitica che vi permette di poter esattamente andare a centrare ciò che voi volete fare questo non è spotify cioè su questo non c'è non c'è l'intelligenza artificiale che vi possa aiutare da questo punto di vista perché soltanto voi avete la gestione dei dati che volete effettivamente andare innanzitutto a verificare ma soprattutto a esporre all'interno delle vostre radio e all'interno delle vostre caratteristiche musicali questo ovviamente vi permette di poter effettivamente come dire avere un controllo totale completo che dire altro una cosa che non ha detto il mio capo Roby dall'altra parte quando ha fatto l'ospice è che noi con Radio Speaker molto probabilmente a breve stiamo definendo delle date faremo dei corsi di programmazione musicale questo vi permette ovviamente da qualsiasi parte del mondo voi vogliate attraverso Gino innanzitutto perché è il vero specialista e poi io che sono un po' un salto in banco di poter effettivamente andare a verificare o insegnarvi qualcosa che voi ancora non conoscete Music Master è il sistema di programmazione di schedulazione più venduto al mondo cioè non per niente le grandi radio le medie radio eccetera eccetera si affidano tutti quanti a questo tipo di sistema perché indipendentemente dal fatto che comunque ha una grande distribuzione è diciamo quello più tra virgolette evoluto e che ha la possibilità di potervi far fare cose che sono totalmente personalizzabili dall'altra parte la cosa molto carina è che Music Master è integrato con tutti quanti i sistemi di automazione per cui se voi avete un MB Studio se voi avete un Xdevil se voi avete i nostri prodotti Zenon eccetera eccetera quello Omniplayer e quant'altro non inficia il fatto comunque dell'organizzarvi un sistema di lavoro un workflow che non possa effettivamente identificare in Music Master il vostro software di programmazione di conseguenza è scalabile è versatile potete fare ovviamente quello che volete ma a prescindere dal fatto che voi stiate mettendo come dire ogni brano a mano oppure gestito effettivamente da un play out di automazione cosa possiamo aggiungere possiamo aggiungere tre o quattro cose fondamentali dentro si può uscire anche dal sistema cioè del tipo se voi avete già come dire online cioè dentro il vostro sistema il fatto di poter mappare direttamente la musica potete seguire già una preview del brano quindi io posso ascoltarlo posso ascoltarlo in che modo attraverso o una mia repository vera e propria che potrebbe essere il mio server dove ho tutti quanti i miei dischi oppure attraverso youtube o attraverso addirittura spotify quindi io prendo e una volta che ho deciso di ascoltare dualipa e non mi ricordo come fa io ho un link diretto sulle piattaforme che voglio io per poter andare ad ascoltare o non mi ricordo questo brano vado a sentirlo esattamente perché c'è un intro diverso rispetto a quello che io mi aspettavo oppure altri tools vabbè questa è una altri tools del tipo il fatto di poter andare questa è un'applicazione nostra che vi permette di poter andare a a a filare quindi a a compilare in automatico campi che voi non conoscete cioè vi faccio un esempio che nella storia è sempre arrivato Van Allen Jump sapete tutti mediamente Van Allen uno non sa come si scrive Jump uno non sa se c'è il punto esclamativo alla fine per cui quando voi lo mettete all'interno del database non sapete cos'è andate a fare la riconciliazione di SIAE e SIAE dice guarda che questo brano non esiste come non esiste l'ho messo giusto se voglio metterlo giusto abbiamo questa applicazione che vi permette di poter correggere in automatico tutte quante i campi che voi non conoscete ad esempio al di là del titolo artista che può essere sbagliato ma potete correggerlo direttamente da qua i compositori tutti la casa discografica originale la data di rilascio l'ISRC e UPC e tante altre cose cioè del tipo qua possiamo andare addirittura sul link diretto della traccia originale su Spotify su Apple Music e quant'altro sono tutti dati che ovviamente in termini di riconciliazione con quelli che sono poi alla fine i SIAE le SSF eccetera vi servono perché vi permettono di poter risparmiare il tempo del data entry cioè devo andare a vedere da quando è stato rilasciato devo andare a vedere quali sono i compositori magari tante volte sbagliati perché bisogna andare a cercarli in un'altra parte una solita unica interfaccia che vi permette di poter compilare tutto quanto quello che gli serve per poter effettivamente andare alla reportistica e anche copertina che oggi come oggi sapete che è importante perché per chi effettivamente gestisce Web Radio o gestisce metadati ovviamente ha una sua valenza semplicemente perché quando voi pubblicate specialmente su Web Radio piuttosto che non su DAB avete la possibilità di poter avere una pubblicazione anche di quello che sono copertine o tante altre cose si interfaccia anche con altri tipi di tool ultimamente Music Master sta facendo una ricerca scientifica abbastanza importante per quanto riguarda tutta la considerazione nuova che si fa sui brani per cui dalla danceability alla chiave eccetera eccetera ci sono piattaforme specializzate che vi permettono di poter fare un'analisi dei cataloghi non in maniera analitica come la vediamo noi ma in maniera come dire più sequenziale che fa un po' come dire il gioco a quello che fa Spotify ma in maniera ovviamente strategica cioè io inserisco dei tag e posso effettivamente gestirli come voglio non in base tra virgolette come dire automatica o standard come le gestiscono le piattaforme che vi fanno sentire delle playlist ma che effettivamente vengono gestite attraverso i famosi campi e le famose regole di conseguenza io ho finito vi lascio 5 minuti di meno sfiancamento e se volete più informazioni ovviamente noi siamo disponibili per quanto riguarda il nostro bancato BV Media ma poi per quanto riguarda appunto i corsi che apriremo con Radio Speaker potete chiedere tranquillamente a me piuttosto che non a Giorgio De Clese per poter capire esattamente come si può accedere a questo tipo di corsi grazie mille dunque a Gino Nuzzo e Roberto Zecchara che sono stati con noi per il workshop di schedulazione musicale grazie mille anche per gli spoiler che comunque bisogna farli abbiamo concluso la prima parte hai una domanda? vai grazie come vengono selezionate le canzoni sono le case discografiche che vi danno un input questa canzone deve andare tot volte piuttosto che una scelta direttamente altra questo lo decidi tu ah benissimo cioè io posso dire allora due punti il primo totalmente matematico io so che ho cinque passaggi di quella categoria all'interno di un'ora se ho dieci dischi ogni due ore mi trovo lo stesso disco non si va più di lì è ovvio che se dall'altra parte io ho dei passaggi chiamiamo sponsorizzati per i quali devo dare delle sovraesposizioni allora a questo punto ecco che molto a mente creerò delle categorie o creerò delle priorità semplicemente per quel singolo brano ma non è che debba essere per forza dettato da delle come dire strategie discografiche cioè per me il fatto che mi arrivi un brano e mi dici guarda che se puoi darmi una mano me lo metti tre volte al giorno io lo metto tre volte al giorno e ho la possibilità di vederlo qua se lo sto mettendo tre volte al giorno o cinque ma non è una come dire non è una caratteristica legata al brano legata alla casa discografica è legata all'accordo che tu hai con la casa discografica o in base al tuo gradimento per cui dico guarda che a me Joliet non piace anche se ho avuto un botto di voti il fatto del 70% di televoto Joliet non mi piace e non lo metto o lo metto magari sì devo metterlo lui è napoletano attenzione perché ho detto una roba brutta però dico se voglio permettermi di metterlo ma non voglio metterlo esattamente come fanno tanti altri allora a quel punto dico lo metto in una categoria invece di alta rotazione più bassa con Music Master voglio dire riguardo a questo caso con Music Master ha anche la possibilità artista per artista di decidere una sovraesposizione o viceversa cioè se quest'artista non piace o tutto il catalogo di questa puoi farlo con Music Master ritornando al discorso che faceva Zac prima esiste la chiamano una turnover calculator per rispondere alla tua domanda è una cosa che si deve fare a inizio cioè nelle fasi iniziali quando il cliente decide di acquisire Music Master la creazione delle categorie quante canzoni devo mettere nella categoria questa calcolatrice ti dà la possibilità di capire ad esempio questa calcolatrice ti permette di capire e di definire quante canzoni ho nella categoria in questo caso ne abbiamo messi 10 e quante volte verrà programmata questa categoria all'interno del clock 5 se tu inserisci questi dati lui ti darà questo valore che è il turnover cioè quanto tempo passa il passaggio della stessa canzone successivamente quindi in questo caso con questi dati il turnover è di 2 ore cioè la stessa canzone ritornerà in programmazione dopo 2 ore e te lo fa vedere anche qua una proiezione una proiezione che però non è basata sulle regole che poi andrai a mettere perché se tu vedi è troppo statica questa canzone la decidi tu quindi decidi quante canzoni oppure gli puoi dire a me interessa che il turnover sia di 4 ore quindi puoi partire direttamente dal turnover e capire quante canzoni devi mettere nella categoria e che turnover gli devi dare quindi ti permette di fare questo altre domande niente non siate timidi nel caso nessuna ok allora io risalgo qualcuno che chiama per fare una domanda no allora abbiamo concluso questa nostra prima parte di workshop insieme a due rappresentanti di BV Media insieme a due